Arriva un'incredibile indiscrezione sulla Juventus e sul suo futuro. La prossima estate si prospetta molto rovente e ricca di trasformazioni. Guardate tutto il video e capirete chi vuole riportare a Torino la squadra bianconera. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. Il ritorno di un grandissimo campione alla Juventus potrebbe essere il colpo di mercato più emozionante dell'estate. Un leader indiscusso, che ha guidato la Juve in moltissime delle recenti vittorie, simbolo della vecchia signora, potrebbe presto far parte della nuova Juventus targata giuntoli. La Juve ha decisamente bisogno di una scossa, di sentire nuovamente vivo il DNA bianconero, di sentir scorrere nelle vene il carisma e la sete di vittoria, tipica della Juventus. Ed ecco allora che Giuntoli prepara il ritorno di una grandissima bandiera, che entrerà a far parte dell'organigramma dirigenziale del club, portando con sé non solo la sua straordinaria esperienza calcistica, ma anche il suo carattere e la sua leadership indiscussa. Stiamo parlando di Giorgio Chiellini. Dopo una brillante carriera da giocatore, culminata con innumerevoli successi e trofei alzati al cielo, Chiellini potrebbe ora mettere a disposizione della Juventus le sue competenze nel campo dell'aspetto economico-finanziario. Un ruolo organizzativo, che potrebbe essere fondamentale, per riportare la squadra ai vertici del calcio italiano e internazionale. Su questo ritorno vogliamo sapere il tuo parere. La Juve ha bisogno del ritorno di un campione come Chiellini? Scrivilo nei commenti sotto al video. Il suo ritorno a Torino non solo rievoca i ricordi gloriosi dei trionfi passati, ma potrebbe anche segnare l'inizio di una nuova era per la Juventus, guidata da uno dei suoi più grandi eroi. Ma quali saranno esattamente i cambiamenti che Chiellini porterà con sé? E come influenzeranno il futuro della Juventus? Con il suo ritorno, la vecchia signora potrà ambire a tornare dominatrice nel calcio italiano e a competere ai massimi livelli in Europa. E con Chiellini al timone, c'è da scommettere che la Juventus sarà pronta a tornare più forte che mai. Ciao e alla prossima notizia!